Scattano i sigilli, otto le persone indagate. È successo a Real Monte, dove i carabinieri delle locali stazione e della sezione di PG presso il Tribunale di Agrigento hanno sequestrato un terreno di circa 15 ettari, al cui interno ricade la Torre di Monte Rosso e due manufatti allo stato grezzo ricadenti in località Fondo Pergole, Torre di Monte Rosso, di proprietà, fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri, della società Agriper SRL. La società farebbe capo al gruppo Catanzaro, che a sua volta fa capo a Giuseppe Catanzaro, il presidente autosospeso di Sicindustria, il quale però non risulterebbe tra gli indagati. Sotto la lente di ingrandimento ci sono invece un funzionario del comune di Real Monte e due funzionari dei beni culturali di Agrigento, che avrebbero rilasciato le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche in contrasto con il vincolo di inedificabilità assoluta. L'iniziativa della società Agriper, si legge sul quotidiano La Sicilia, farebbe parte di un progetto da oltre 5 milioni di euro, realizzato dall'architetto Alessandro Carlino di origini favaresi. Il progetto, sempre secondo la ricostruzione del quotidiano La Sicilia, avrebbe previsto la realizzazione di un museo del paesaggio costiero, di un parco naturalistico e di una struttura ricettiva nelle adiacenze dell'antica torre di avvistamento nella zona delle Pergole, ma la società Agriper, pare, non avesse fatto i conti con i vincoli di inedificabilità di tutta la zona. A emettere il decreto di sequestro preventivo il GIP del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco, l'operazione scattata al termine di un'indagine coordinata dal sostituto procuratore Antonella Pandolfi è scaturita a seguito di un esposto presentato da Lega Ambiente nel 2013. Come detto, otto gli indagati. I reati contestati vanno dall'abusivismo edilizio in zona vincolata alla lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, alla distruzione e alterazione di bellezze naturali e di luoghi di particolare pregio storico-paesagistico.